Se devi vendere casa a Torino in prima cintura, forse ti posso aiutare. Piacere, mi chiamo Fabrizio Fazzolari e sono un agente immobiliare dal 1997. Anche se questo è veramente un periodo difficile, a differenza di quello che si può pensare, le case si vendono e come? Nel primo semestre 2022 ho venduto ben 32 case a Torino e nei comuni Dimitrofi, in un tempo medio di 48,51 giorni. Devo però essere sincero con te, non è più semplice come una volta. Vendere è diventato molto più complicato, sia per via della crisi, della guerra, sia per il fatto che gli acquirenti sono molto più esigenti rispetto ad alcuni anni fa. Per vendere bene non è più sufficiente fare un annuncio e scattare due foto. Non è neanche sufficiente avere un nome o far parte di un'agenzia famosa, come ne facevo parte io fino a qualche anno fa. Tra più di 11.000 case in vendita nel solo comune di Torino, per vendere è necessario riuscire a far emergere la tua casa, oltre che essere in grado di sapere imbastire e gestire una trattativa. Cosa sempre più complicata al giorno d'oggi, vista la facilità di accesso alle informazioni grazie all'internet. E come se non bastasse, dobbiamo considerare che anche le banche ci mettono i bastoni tra le ruote quando un acquirente deve richiedere un mutuo con tempi biblici. Detto ciò però, se vuoi vendere la tua casa, ti posso aiutare. L'hai ereditata? La devi vendere per comprarne un'altra? Oppure hai appena sfrattato un inquilino moroso e non vuoi più saperne di affittare? Se ti ritrovi in uno di questi casi e vuoi vendere, visita la pagina al link che trovi qui sotto, dove mi presenterò e dove avrai la possibilità di richiedere gratuitamente il kit informativo sul sistema che utilizzo per vendere le case nel 2022 che ho preparato per te. È gratis e non prevede alcun impegno da parte tua. Il kit però ti aiuterà a capire quali sono le cose importanti da sapere prima di mettere in vendita una casa, qual è il mio modo di fare, che cosa posso fare per te e quali servizi ti posso offrire per riuscire a vendere casa in tempi brevi e al massimo prezzo di zona. Clicca adesso su Richiedi Ora e ricevi il kit informativo gratuitamente.